Venerdì 12 aprile 2019, 102esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Ariete. La chiesa ricorda San Giulio. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giulio. Il nome ha origine latina e significa sacro a Giove. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 12 aprile del 1944, Re Vittorio Emanuele III di Savoia annuncia alla radio la sua abdicazione in favore del figlio. A così fine il suo lungo regno, durato 46 anni, che vide, oltre alle due guerre mondiali, l'introduzione del suffragio universale maschile e femminile, delle prime importanti forme di protezione sociale, la nascita e il crollo dello stato fascista e le maggiori conquiste in ambito coloniale con l'annessione di Libia ed Etiopia. Morì quasi due anni dopo la caduta del Regno d'Italia. Per la sua partecipazione a due guerre mondiali e la vittoria nella prima, Vittorio Emanuele III venne appellato dalla stampa propagandistica, re soldato e re vittorioso. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri all'attore Luca Argentero, nato a Torino il 12 aprile 1978. Dopo essere diventato noto al grande pubblico con la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, Argentero è diventato un apprezzato attore sia in tv che al cinema e in teatro. Le frasi del cinema. Se le persone che amiamo ci vengono portate via perché continuino a vivere, non dobbiamo mai smettere di amarle. Dal film Il Corvo. Proverbio del giorno. Anche la mucca nera fa il latte bianco. Proverbio della guinea. Grazie a tutti.